Non me l'aspettavo, però non è andato bene. Quello che è importante è il risultato, abbiamo perso, non conta niente, mi esordio. Andiamo avanti. Però per te insomma è importante. Oggi si è capito che sei il secondo portiere del Lazio. Sì, è importante sì. Mi allenavo da quando sei arrivato al Lazio per quell'obiettivo di esordire e giocare. Adesso andiamo avanti e proviamo la prossima partita. T'ha detto Inzaghi qualcosa? Già sapevate le gerarchie, cioè tu eri dietro Marchetti e prima di Vardegge. Sì, il mister crede molto a me e anche alla società. Io l'ho apprezzato. Sono rimasto quest'anno anche alla Lazio. Lavorando possiamo crescere e aiutare la società a andare più avanti. T'ha detto qualcosa prima di scendere in campo? Divertirmi. Grazie.